Che cos'è? Niente Che succede? Facciamoli avvicinare prima di sparare Avanti Mi sacrificherò Adesso è troppo tardi Ah, veramente? Ah, che demonietto, che tigre Ma quest'angelo è tutto fuoco Cugino, incastronate subito questa perla In un oro degno di lei Sarà la più amabile compagnia per mia moglie Ah, che cos'è? Sì No! E ora veniamo al più grave Irak non si è accontentato di violentare la natura I malifici li esercita anche sulle persone umane Eccomene la testimonianza Quest'uomo è la morte La testimone è stregata Lasciami, non sta a farmi il vestito Ho promesso a Dio No, lascia il mio corpo Basta Io ti do la mia anima No! 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 Alzate la mano Nicola non esiste più Nicola ti ha atteso due giorni nella foresta Avevi promesso di raggiungerlo I soldati l'hanno preso E lui li ha uccisi Libero tuo marito Sarà sano e sano E noi due partiamo per le amelle Come avevamo deciso quando eravamo ragazzi A che venti nelidel Stro過 E noi davanti hoimi He l ampi C buttons Mi Mi Mi